E' di questa mattina l'ultimo report della città di Agropoli riguardo i contagi. Dall'ente comunale fanno sapere che a causa di un guasto alle apparecchiature e all'alto numero di tamponi da processare nell'area sud di Salerno, le comunicazioni dei bollettini da parte del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL stanno subendo dei ritardi. Nella giornata del 3 gennaio sono stati segnalati 38 nuovi casi di positività al Covid-19. Non sono stati resi noti al momento i dati dei guariti, il totale dei positivi attuali e quindi di 291 non si segnalano casi gravi. Invitiamo tutti a rispettare sempre le normative anti-Covid e a indossare anche all'aperto i dispositivi di protezione. Ulteriori aggiornamenti verranno comunicati tempestivamente non appena trasmessi dall'ASL o dalla piattaforma regionale. Numeri importanti ha raggiunto per quanto riguarda i contagi da Covid-19 la città di Capaccio Pestum. Nella giornata di ieri 81 cittadini positivi fanno schizzare il report a 339 contagiati con 383 persone in quarantena fiduciaria. Contagi si riscontrano anche nel comune di Castellabate, la positività di 15 cittadini e 6 persone guarite dal virus.